...le ginocchiate possibili, possibilità di portare anche i quadrici, che sono cosiddette, i calci, i piantali, e il protesto in edificio, e da alcuno, e da alcuno. Quindi chiamo, dal Daigert Tempo, con l'Ade Beniziano, anglo-rosso, e da Taipo Torino, da Rit Tagliar. Uno dei due rimane solo, tanto non state facciate un cazzo. Uno viene a mangiare, mangia mezz'ora, poi mi date un cambio, l'altro mangia un po' di mezzo. Se possibile, un tecnico del Rit a causa della gioia, grazie. ... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.